Paola Pellegrini, algoritmi, matematica applicata al revenue management, ma per chi non mastica matematica come può fare? Chi non mastica matematica per niente è un po' in difficoltà, però già a saper fare una media, una somma con Excel, secondo me si può capire moltissimo. Basta sentire qualcuno che lo racconti, che lo racconti in maniera facile e non aspettarsi di capire proprio tutto. Se non ci si aspetta di capire proprio tutto, secondo me si può capire tantissimo e poi si chiede a qualcuno che ci capisce di più. Paola Pellegrini è stata bravissima perché poi, ecco, l'abbiamo visto, è stata super seguita, addirittura la gente si è messa fuori, seduta a copiare le formule, eccetera. Ha spiegato in maniera abbastanza facile che cosa? Ho spiegato in maniera abbastanza facile, spero, quello che ci possiamo aspettare che un programma che fa forecasting della domanda e gestione del prezzo facciano. Come lo fanno è al di là di quello che si può dire in un'ora e soprattutto al di là, secondo me, di quello che interessa un albergatore. Però che cosa, un pochino, come funzionano questi programmi, secondo me aiutano un sacco a capire cosa ci si può fare per davvero. E per davvero ci si può fare qualche soldino in più? E per davvero ci si possono fare tantissimi soldini in più se si usano bene le tecniche matematiche e se non ci si aspetta che le tecniche matematiche dicano esattamente la risposta giusta. Bisogna accettare che il revenue manager serve, servirà per sempre, dovrà intervenire sui numeri che la matematica propone per poi sfruttarli e imparare da questi. Un consiglio in matematichese? Che domanda difficile, un consiglio in matematichese, non cercate mai formule difficilissime, se vi raccontano che bisogna tenere conto anche di quanti capelli hanno i clienti, non gli credete. Formule facili e poi interpretate in modo difficile dal revenue manager, ma formule facili. Più o meno quali potrebbero essere? Le formule, questa è una domanda da un milione di dollari, secondo me non c'è una risposta giusta, perché a seconda dell'albergo, a seconda di dove si trova, a seconda del tipo di clientela, a seconda di milioni di cose, ci sono formule migliori o peggiori. Quella giusta in assoluto ancora non la conosciamo, noi che facciamo scienza. E quella più sbagliata che possa esserci qual è? La più sbagliata che possa esserci non credo che esista. Quella che si usa spesso è cosa ho fatto l'anno scorso in questa stessa data. Funziona perfino questa in modo più o meno qualche volta accettabile, per cui al complicarla solo un po' di più si arriva davvero lontano. Come ti sei trovata al VHR? Che cosa pensi di questo evento? C'è tantissima gente, pensavo fosse molto ridotta la scala, invece complimenti, siamo davvero tanti. Forse più di quanti ci si aspettasse, forse più di quanti ci si aspettasse. Tornerei l'anno prossimo? Spero, vedremo, non lo so, dipende da GP dati in realtà, ma io ho imparato un sacco. Spero di aver lasciato qualcosa che è la cosa più bella che mi potrebbe succedere oggi e quindi se è andata bene tornerò anche l'anno prossimo.